Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire i colpi di fionda, i dardi dell'otraggiosa fortuna, o prendere le armi contro un mare di affanni e contrastandoli porre il loro fine. Morire, dormire, nient'altro. E con un sonno direi che poniamo fine al dolore del cuore e ai mille tumulti naturali di cui rete la carne. È una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire, dormire. Forse sognare. Sì, questo è l'ostapolo. Perché in quel sonno di morte, quali sogni possono venire dopo che ci siamo cavati di dosso a questo groviglio mortale? Deve farci riflettere. È questo lo scrupolo che dà la sventura a una vita così lunga. Perché chi sopporterebbe le frustate e gli schiene del tempo, il torto dell'oppressore, la contumelia dell'uomo superbo, gli spasimi dell'amore disprezzato, il ritardo della legge, l'insolenza delle cariche ufficiali, e l'isprezzo che il merito paziente riceve dagli indegni quando egli stesso potrebbe darsi inquietanza con un semplice stiletto. Perché chi porterebbe Fardelli, grugnendo e sudando, sotto il peso di una vita faticosa, se non fosse che il terrore della morte, il paese inesplorato dalla cui frontiera nessun viaggiatore fa ritorno, sconcerta la volontà e ci fa sopportare i mali che abbiamo, piuttosto che a correre verso altri che ci sono ignoti. Così la coscienza ci rende codardi e così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero. E imprese di grande altezza e momento, per questa ragione, deviano dal loro corso e perdono il nome di azione. Ha fatto schifo, mi tengo l'altra.